ciao siamo qua la prima giornata della coppa del mondo di wing foil ci troviamo campione ci troviamo con alessandro tommasi ciao alessandro ciao e allora oggi abbiamo appena corso il primo giorno di questa coppa del mondo che è la prima tappa e allora siamo qua a gareggiare col wing foil che è una classe molto nuova uno sport nato da pochissimo che io pratico da circa un anno e mezzo e la figata di questo sport è che è super compatto è veramente di una comodità incredibile perché per andare in acqua te arrivi in spiaggia gonfi la tua wing prendi la tavola che dimensioni molto ridotte e ti butti a me piace molto è piaciuto molto questo sport quando ho iniziato a praticarlo poiché è veramente molto puoi far di tutto da andar veloce a fare salti a surfarti le onde più piccole qual è la tua cosa preferita tra queste io sono da sempre un regatante mi piace la velocità ma quindi questa noi diciamo questa è la prima tappa di coppa del mondo quali sono le altre tappe dove poi porta questa questa board tour diciamo la seconda tappa che sarà in brasile per quest'anno mi sa che le altre sono cancellate ma mi impacchettate dentro uno dei vostri delle vostre valigie per portarmi in brasile figata bellissimo avete diversi format di regata voi abbiamo vari percorsi la maggior parte sono partenza dal traverso e percorsi tra bolina e traversi domani probabilmente si regate la mattina come come abbiamo fatto stamattina che c'era un bel peler speriamo nell'ora nell'ora che questi giorni non è molto promettente però ci divertiamo beh vi vedo comunque quando uscite anche se a torvole che vi divertite quello senz'altro bene allora in bocca al lupo per questi giorni ti ringrazio ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti